PAC 2000 Conad fa rivivere l'area che negli anni 80 è stata un punto di riferimento per molti giovani umbri e del centro Italia nel nome di un nuovo complesso commerciale, Quasar Village. L'inaugurazione al pubblico è avvenuta questa mattina, la cooperativa, la realtà di punta del gruppo Conad ha realizzato una struttura che occupa con le sue molteplici funzioni una superficie di 23.835 metri quadri per accogliere un flusso elevato di persone in un tempo di percorrenza massimo di 30 minuti, 2.200 posti auto di cui 1.500 coperti, responsabile del progetto l'ingegner Flavio Prenni. L'idea nasce ben oltre 7 anni fa quando abbiamo iniziato a pensare di realizzare una struttura su questa zona. L'idea è nata perché la nostra azienda è un'azienda umbra, l'azienda è cresciuta per cui ci siamo prefissi nel corso degli anni di realizzare qualcosa nella nostra regione che fosse anche di ricordo a quello che l'azienda stava realizzandone in Italia. Il primo lavoro è iniziato a gennaio 2010 con la demolizione della vecchia discoteca. A fine ottobre 2011 abbiamo fatto la prima fondazione di questo edificio. Quindi ottobre 2011 fino ad oggi, 24 settembre 2014, sembrano tanti, tre anni per realizzare quest'opera ma effettivamente non abbiamo realizzato solo quello che attualmente si vede ma qui abbiamo realizzato anche notevoli opere infrastrutturali pubbliche, quindi strade, fognature eccetera, nuovi impianti per la distribuzione anche del sistema informatico, fibre ottiche eccetera. Nelle strutture del Quasar Village trovano spazio 60 negozi, 50 dei quali nella galleria di 8100 metri quadri, assieme a bar e ristoranti e alcune attività commerciali su grandi superfici. Il direttore generale di PAC 2000 Conad, Danilo Toppetti. Per PAC 2000 Conad è il coronamento di un sogno che abbiamo nel cassetto da 30 anni, è un sogno che è nato 30 anni fa e che ha preso già le prime sembianze a Perugia sulla zona Centova, nel 1986 abbiamo fatto già i primi contratti di acquisizione di terreni, nel 1990 abbiamo le prime autorizzazioni, sono state varie vicende che ci hanno coinvolto la nostra azienda, nel 1994-1995 ci hanno detto che lì non si poteva più fare e abbiamo spostato la nostra attenzione su questo territorio, dovevamo fare qualcosa che ricordasse PAC 2000A nel territorio Umbro e in tutta la regione, fare qualcosa che fosse orgoglio nostro ma di tutta la regione Umbra in qualche maniera. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, abbiamo coronato questo sogno che abbiamo nel cassetto.